test di registrazione video in full hd da oppo r7s camera da 13 megapixel zoom digitale fino a 4 per immagine definita nella media contro sole proviamo anche una messa a fuoco sulla classica piantina e poi proviamo anche la stabilizzazione di questo video con un pan veloce vi ricordo video registrato da oppo r7s